Una giornata particolare è quella organizzata da BIM-GSP che per celebrare la giornata mondiale dell'acqua ha aperto al pubblico la sorgente della Val Clusa in comune di Lavalle a Gordina. Hanno risposto all'invito circa 100 cittadini distribuiti in due turni di visita. I tecnici di BIM-GSP li hanno accompagnati all'interno della sorgente e dell'impianto di disinfezione. Alimentato da quattro sorgenti, il sistema della Val Clusa si snoda per oltre 130 chilometri e approvvigiona circa 50 serbatoi e impianti di sollevamento distribuiti lungo tutto il percorso. Oltre 50.000 in totale, gli abitanti serviti distribuiti in otto comuni. Sospirolo, Sedico, Belluno, Limana, Borgo Valbelluna, Setteville, Segusino e Valdobbiadene. La capacità erogativa media dell'acquedotto è di 450 litri al secondo, pari a 35.000 metri cubi al giorno. L'acqua è un bene essenziale, spiega Tiglio Sommavilla, presidente di BIM-GSP. 80 milioni di euro è il valore delle opere che andremo a realizzare nel triennio 2024-2026 per rendere efficienti le reti idriche, potenziare la fognatura e costruire nuovi depuratori. Di questi 25,6 milioni sono destinate a ridurre del 35% entro fine 2025 le perdite idriche dei principali acquedotti della provincia di Belluno, tra cui quello della Valclusa.